La prestazione di squadra c'è stata, non è semplice venire qui e pareggiare, potevamo magari rischiare qualcosina in più per portare a casa la vittoria, ci è mancato anche il guizzo finale. Peccato perché ora come ora sono tutte decisive queste partite, quindi dobbiamo cercare di fare i più punti possibili fino alla fine. La classifica però è più preoccupante di prima, prima di questa. Sì, è preoccupante, lo è sempre stata, perché alla fine siamo sempre stati in zona play-out, e prima non siamo tranquilli. Adesso magari è un po' più complicata, però ci sono sei squadre in un punto, mancano cinque partite, quindi cerchiamo di fare i più punti possibili per arrivare alla salvezza. Ripensando la settimana, cosa è mancato a Cesena? Sicuramente abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana, come ho detto prima magari si poteva rischiare qualcosina in più per cercare la vittoria, però alla fine è anche importante non perdere, quindi andiamo avanti e pensiamo già alla partita col Fiosinone.